7 più o meno 2 ricordatevi questa piccola formulina che amici ben arrivati questa riflessione fotografica nella quale vi parlo di tecnica fotografica in maniera diciamo in diretta di crescita fotografica allora se mi seguo da un po di tempo saprai che oltre ai corsi online che vedi qui insomma sul sullo sfondo e che trovi i link in descrizione prima del covide della pausa covide facevamo anche insieme a roberto hanno di promiro les diversi corsi fotografici reali no quindi sul sul campo workshop corsi foto experience eccetera eccetera in più tra l'altro con tutti i canali promiro les puntuita i social i commenti ci mandate le mail che riceviamo eccetera eccetera insomma abbiamo siamo in contatto veramente molto spesso con tante persone che ci chiedono consigli e insomma ci raccontano un po loro vissuto il loro percorso che hanno fatto in nel mondo della fotografia per migliorare per crescere per imparare nuove nozioni nuove competenze io credo sostanzialmente che ci sono tre macro tipologie cioè c'è il teorico poi c'è il praticone diciamo lo smanettone e poi c'è il tester allora tutti queste tre tipologie di approccio alla alla fotografia cioè al modo in cui cercano di imparare migliorare la propria fotografia ha ovviamente dei pro e dei contro allora proviamo a analizzarli e cerchiamo di capire come queste informazioni ci possono magari far fare un salto di paradigma come si dice in gergo tecnico insomma salto di qualità cioè possiamo all'atto pratico accelerare la nostra crescita fotografica allora che è il teorico il teorico è quella persona che passa il 90 per cento del tempo a studiare è quella persona che va in libreria e trova sempre esce fuori con un libro con un manuale del come fare per 10 consigli per fotografie super e così via no insomma è il suo la la sua libreria è piena di manuali di libri che cercano insomma di svelarti il santo graal insomma la chiave segreta per ottenere foto straordinarie è una persona curiosa è una persona che ama approfondire gli argomenti ama conoscere gli argomenti ma che ahimè poi all'atto pratico ti rendi conto che di fotografie reali ne fa ben poche cioè la maggior parte del suo energia del suo focus è quello di capire di studiare le cose poi in realtà se tu hai vedere il suo portfolio il suo appunto percorso fotografico ti accorgi che di fotografie ce ne sono poche e magari neanche di elevatissima qualità quindi c'è un problema di conversione delle nozioni apprese in aspetti in foto concrete no in azioni concrete di contro lo smanettone il praticone che è è quello che non compra mai un libro non gli interessi minimamente non studia praticamente nulla ma è quello che cerca di imparare sostanzialmente sbagliando cioè prende la macchina fotografica come comincia a vedere cosa sono i tasti ci smanetta sopra fa un po di prove aspetto ha capito oppure la luce prova la luce in questo modo in sostanza man mano che fa le cose lui riesce a capire come fare ok che da un certo punto di vista questo approccio anche una sua morale è anche sensato per per alcuni aspetti perché effettivamente è come dire intanto c'è il detto sbagliando si impara effettivamente io faccio una cosa vedo che quella cosa non funziona ho capito che quella strada è da escludere il problema di questo approccio ragazzi anzi problemi sono sostanzialmente due il primo è che ci metti un pacco di tempo ci metti tantissimo a crescere perché perché se tu per poter capire una cosa devi fare uno o n errori fino a che hai capito che quella cosa è sostanzialmente che quella cosa non funziona e beh ci metti veramente tanto tempo sapete qual è il principale valore aggiunto di un buon libro o ancor più di un buon corso è quello di condensare decenni ed esperienza di colui che ha fatto il corso che ha scritto il libro in poche ore questo è il vero valore aggiunto di un corso perché perché ad esempio se tu voi prendete il nostro corso dello scatto alla stampa fine art e il corso online lì c'è condensato l'esperienza di 16 anni che ci dedichiamo alla stampa fine art e abbiamo fatto che cosa abbiamo scremato ciò che non funziona abbiamo lasciato ciò che funziona realmente perché ovvio che parlando di fotografia e di stampa ci si può dire di tutto cioè ci sono milioni di informazioni ma l'esperienza ci ha portato a capire cosa effettivamente fa la differenza rispetto a cosa non fa la differenza e come arrivare all'output di qualità nel modo più efficace possibile questo è il valore aggiunto sono dieci ore di video lezioni che sono tante ma sono nulla rispetto ai 15 anni di apprendimento soprattutto all'inizio come esempio nel caso della stampa fine art dove era tutto molto sperimentale c'era si trovava anche poco in rete e quindi tu dovevi capire sbagliando quindi primo motivo per cui l'approccio da praticone è che è poco efficace perché tu con devi continuare a sbagliare per poter capire come come non fare ma molto più senso studiare come fare quindi capitalizzare l'esperienza fatta da altre persone tramite un libro tramite un corso l'altra cosa per il quale in questo metodo è poco efficace è perché io ho visto che all'inizio paradossalmente puoi anche forse andare più veloce del teorico no è un po come chi ad esempio acquista una macchina fotografica c'è quello che si mette lì neanche la tocca ma comincia a leggersi il manuale di istruzione lo legge tutto eccetera eccetera quindi all'inizio ovviamente ci metterà più tempo perché deve passare del tempo a studiare prima di mettere le mani sulla macchina fotografica rispetto al praticone che ha cominciato a smacchinarci sopra ma dopo cosa succede che quando la persona ha studiato il manuale e comincia a studiarsi la macchina fotografica oltre a sapere tutte le anche le scorciatoie le shortcut insomma i menu più tra virgolette segreti i meccanismi più segreti e capire effettivamente come i progettisti hanno pensato alla macchina fotografica ma andranno molto più veloce e quindi in effetti come dire studiare e crea il cosiddetto effetto fionda cioè lì per lì ti sembra di andare indietro ma poi arriva un punto in cui quando viene lasciato l'elastico tu schizzi in avanti e io mi accorgo che il praticone arriva un punto del suo percorso nel quale poi si arena rallenta tantissimo e fa fatica allora se ti ritrovi in questa categoria è chiaro che devi capire che studiare è importante tanto quanto fare fare pratica e non serve solamente andare su google cioè se tu devi fare non so come impostare il bilanciamento del bianco in una giornata di nebbia cosa fa il praticone che metto a leggere un manuale aspetta vado su google su youtube bilanciamento del bianco nebbia che sicuramente troverà un tutorial a parte il fatto che non sai effettivamente la fonte di quelle tutorial quindi non sai quanto poi è una persona qualificata ma al di là di quello è che comunque hai sempre una un'informazione parcellizzata e quindi poi prima che componi il tuo puzzle passa veramente del tempo per cui il consiglio è sempre di investire in un buon corso di fotografia in formazione in libro eccetera perché comunque quelle nozioni vedrai che ti faranno fare al momento giusto un grande salto di qualità e poi acquisire nozioni non soltanto di tipo pragmatico tecnico ma anche nozioni di tipo culturale perché studiare ad esempio la pittura per fare insomma un parallelismo è estremamente importante ad esempio nella gestione del colore della composizione della prospettiva eccetera eccetera per cui le nozioni che apparentemente hanno poco valore pratico in realtà poi dopo ti daranno un grande una grande spinta ti faranno fare quel salto di qualità e quelle avrai quella quella quell'elemento in più che magari il praticone che si è limitato a imparare come funziona il mezzo fotografico non avrà ed è il motivo per il quale ragazzi chi esce ad esempio da un istituto artistico avendolo fatto bene ovviamente avendo studiato oppure da un liceo artistico eccetera non c'è niente da fare anche se non ha studiato la fotografia fino in fondo magari ha fatto un corsettino ma ha un background nozionistico storia dell'arte della scultura della pittura della prospettiva del volume da forma bla 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 che sarà è un patrimonio inestimabile quando poi metterà le mani sulla macchina fotografica e andrai a produrre le tue fotografie quindi questo per farvi capire l'ultima categoria è il tester ecco questa è la categoria secondo me più un po più triste di tutte e tre triste perché alla fine cioè ha in seno queste persone hanno in seno lo spirito del ricercatore no cioè di quello che cerca di capire le cose eccetera eccetera che anche bellissimo è stato un propulsore fenomenale è un propulsore fenomenale per l'evoluzione dell'umanità però in ambito fotografico ok tu magari ti arrovelli su come funziona il mezzo fotografico e soprattutto testi no il loro paradigma mentale è questo è più o meno di quest'altro questo paradigma qui che lo applico in fotografia ma lo applico anche il resto è un paradigma che porta a conclusioni spesso poco produttive e addirittura sbagliate intanto più che più o meno puoi anche utilizzare diverso come termine e già cambia la prospettiva ma al di là di quello se tu costantemente non fai nient'altro che testare fammi vedere il 35 della sigma rispetto al 35 di tamron dove è meglio ti vai a invischiare in cavilli in aspetti che francamente portano a poco ora noi abbiamo il nostro canale facciamo anche recensioni e chiaramente facendo recensioni fai dei test questo è normale ma è un conto che tu fai questo perché è un canale o un'attività legata appunto al testare l'attrezzatura come il collaudatore di auto è normale che testa l'auto no questo è scontato ma in conto che tu fotografo ti metti o appassionato a fotografia ti metti a testare sempre fare solo foto per capire se quell'ottica è meglio di quell'altra questa cosa è veramente poco produttiva perché io ho visti diversi anche perché entrano in un quando tu ti cominci a concentrare più alla tecnologia all'attrezzatura che alla fotografia vera e propria entri in un circolo vizioso con una forza centripeta veramente forte da cui è difficile uscirne fuori è veramente tanto tanto difficile e rischi poi alla fine di passare delle ore a capire e a testare le cose quando ti guardi indietro non hai fatto neanche una foto di qualità ed è veramente deprimente per cui il concetto è che testare passare il tempo a testare le cose francamente è abbastanza come dire masturbante diciamo pure la verità allora fatta questa diciamo dissertazione sulle tre macro tipologie di di approccio alla crescita fotografica cerchiamo di capire facciamo un discorso un pochino strutturato e quindi qual è in sostanza la soluzione no se una soluzione universale tre virgolette mai ci fosse allora chi si occupa di formazione dell'adulto in maniera seria professionale io vengo da quel mondo sa che esistono nella nella programmazione di un modulo formativo esistono tre possibili macro obiettivi cioè obiettivi nozionistici obiettivi addestrativi e obiettivi comportamentali a volte sono e e e oppure o cioè nel senso che alcune attività richiedono solo un raggiungimento di un obiettivo nozionistico alcune attività solo addestrativo eccetera eccetera in genere comunque c'è un misto soprattutto nozionistico addestrativo allora cerchiamo di capire perché non è che facciamo un trattato di formazione nozionistico lo dice la parola è l'obiettivo del del modulo formativo è quello di farti acquisire delle nozioni cioè delle competenze che poi ti saranno utili nella vita nella situazione a cui fanno riferimento fanno riferimento le nozioni addestrativo è ad esempio come funziona una macchinario o come funziona una macchina fotografica cioè saper utilizzare una macchina fotografica digitale richiede appunto nozioni concrete no? sapere come si accende come si cambia il biancetto del bianco l'esposizione l'autofocus e bla 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 comportamentale invece che in alcuni ambienti in alcuni settori occorre sapersi anche comportare prendi un fotografo matrimonialista per fare un esempio devi saperti comportare un determinato contesto ora senza entrare esattamente nelle varie attività formative esercitazioni che si possono fare per raggiungere l'uno o l'altro scopo non è questo ripeto l'obiettivo di questo video sicuramente dobbiamo renderci conto che come fotografi noi dobbiamo raggiungere sia obiettivi nozionistici sia addestrativi e volendo anche comportamentali ma sicuramente obiettivi nozionistici se noi dobbiamo sapere le fondamenta della tecnica fotografica della composizione e della luce sono nozioni imprescindibili ma vi dirò di più che sono nozioni importanti anche lo studio della storia della fotografia e della storia della pittura sono nozioni importantissimi che poi nel momento in cui avremo imparato ad utilizzare il mezzo ci permetterà di migliorare immensamente le nostre fotografie così come obiettivo addestrativo come si fa a raggiungere un obiettivo addestrativo è quello di fare della pratica cioè di studiarsi eventualmente il manuale di vedere dei tutorial ma poi fare della pratica allora qual è il concetto chiave ragazzi tirando le somme di questo video e rispondendo alla sorta di input iniziale ricordatevi 7 più o meno 2 allora che cos'è il 7 più o meno 2 ragazzi è la ram del nostro cervello cioè voi sapete che noi abbiamo una grande cioè il cervello umano ha una grande capacità di assimilazione di apprendimento di associazione di astrazione eccetera eccetera ma ha una ram cioè la capacità in sostanza di gestire più cose contemporaneamente abbastanza limitati gli uomini ancora meno diranno le donne allora e sono diciamo teoricamente i neurologi parlano di 7 più o meno 2 informazioni ok in contemporanea perché dico questo ragazzi perché la fotografia è di per sé un'operazione abbastanza semplice cioè non è che devi diventare un ingegnere nucleare aerospaziale per fotografare no insomma non sono concetti particolarmente complicati almeno a un certo livello certo è che se tu vuoi capire i principi della fisica legati all'ottica allora diventa una cosa più complicata ma dal punto di vista diciamo normale fotografare non è una cosa complicatissima dov'è la difficoltà della fotografia? è a parte va bene la sensibilità nella capacità di vedere la foto bla 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 ma è anche quella di dover fare delle scelte quindi a delle azioni in pochissimo tempo cioè la difficoltà di fotografare è proprio che la fotografia avviene in decimi frazioni di secondo a volte in millesimi a dire di secondo per cui tu in poco tempo devi pensare a tante cose devi inquadrare quindi pensare alla composizione all'uso del colore all'uso della luce le linee eccetera eccetera la gestualità il momento bla 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 no tutte queste cose devi pensare a come impostare l'autofocus come impostare il software come impostare la triade esposimetrica tutti questi parametri e quindi diventa complicato cioè il nostro cervello quelle famose set più o meno due informazioni vanno velocemente in tilte in sovrasaturazione cioè in sostanza ti blocchi non capisci più niente o quantomeno ti perdi qualcosa infatti è tipico ad esempio chi viene magari ai nostri matrimoni a fare un pochino di pratica li vedi che vanno si piantano sono lenti perché perché magari sanno fotografare ma devono capire dove sono come si devono muovere come si devono comportare devono fare attenzione a non impallare noi eccetera eccetera quindi il cervello fa fatica a gestire tutte queste informazioni perché vi sto facendo tutta questa supercazzola sull'apprendimento perché il concetto è semplice tanto più diventi automatico tanto più un'operazione diventa automatizzata tanto più semplice sarà per il cervello gestire altre informazioni cioè il cervello ha una grandissima capacità una volta che ha fatto della pratica il gestire la macchina fotografica diventa un'informazione non 10 informazioni contemporanea cioè all'inizio tu devi ripeto come si accende come si cambia l'esposizione dove si mette l'iso eccetera eccetera no quella sensazione che avrete provato qualche volta quando prendete una macchina fotografica nuova cioè sembri un troglodita cioè metti la macchina all'occhio non capisci nulla no sei lento non riesci a fotografare poi cosa succede se tu con la macchina c'è lato per 5 anni 10 anni ecco perché conviene tenere l'allungo tu e le dita ci vanno da sole è un tutt'uno quindi il cervello la gestione della macchina fotografica è un'informazione se tu fai parecchio allenamento di composizione quando tu porti la macchina all'occhio in automatico inquadri già in maniera piuttosto strutturata anche il tuo corpo si è già messo in una posizione in un modo si è inclinato abbassato eccetera perché sa ha previsualizzato sa che lì troverà la foto e quella un'altra informazione quindi in sostanza il nostro cervello tende a fare dei cluster cioè delle agglomerati di blocchi di informazioni di nozioni di competenze e quindi riesce a snellire operazioni molto complicate per cui il concetto è studiare estremamente importante è fondamentale perché ci fa evolvere come persone ci dà delle intuizioni delle informazioni che poi arriveranno al momento giusto arriveranno a farci fare la differenza ma è molto importante fare ovviamente anche tanta pratica questa è una cosa importante ma pratica ragazzi e questo è il concetto di fondo fatela fate una pratica di qualità cioè non se fate il discorso che vi ho detto prima dovete studiare i colori complementari non limitatevi semplicemente a fare la foto il rosso col verde un oggetto tanto lì tanto per buttarla lì la foto no per far capire che che hai capito la foto che hai capito il concetto ma sforzatevi di fare una foto di qualità questo è il massimo che potete fare perché oltre a come dire a mettere a fuoco quello che avete studiato oltre a cercare di mettere in pratica e quindi addestrare le vostre capacità portate a casa anche dei risultati ragguardevoli e capitalizzate il tempo che avete a disposizione perché purtroppo la risorsa più scarsa che il fotomatore soprattutto ha è proprio il tempo perché se hai preso da tante cose quindi hai poco tempo se passi il tuo tempo a testare un'attrezzatura a capire una funzione bilanciamento del bianco semplicemente a studiare tu sostanzialmente non produrrai mai un portfolio una quantità di foto di qualità di cui essere orgogliosi questo è il concerto chiave di questa riflessione fotografica fatemi sapere cosa ne pensate e ricordatevi che se volete concentrare decenni di esperienze a poco tempo ricordatevi i nostri corsi online ciao ragazzi un abbraccio